Guarda che sono fatti con amore, una alla volta li ha attaccati, ma veramente guarda che, non lo so, li fanno, poi non li tengono loro, me li mandano a me, con amore, e io li appendoli tutti, uno di fianco all'altra, grazie, 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 vi voglio bene, vi voglio bene, ma pensa te, ma sono dei capolavori, veramente, uno per uno, dei capolavori sono. Ma dimmi te, tutte queste cose belle, io ricevo tante cose belle, ma non lo so, grazie, 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 vi voglio bene, vi voglio bene, sì, vorrei abbracciarvi forte, 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 un bacione forte, un bacione, un bacione forte. C'è il pulcino? C'è il pulcino pio pio, il pulcino pio pio. Hai mangiato? Ho mangiato e ho bevuto, ma che coniglietto grosso, che coniglietto grosso. Nonna Luigina e dai, sarebbe il coniglietto qui c'era dentro, no, quel cosa c'era dentro? C'era dentro questi qua. Ma che coniglietto grosso che ho, mamma tanta, guarda, com'è grosso, questo qui è un gigante, è un gigante, un coniglio gigante, coniglio gigante. Bravo, grazie, 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 ma sono fatte con amore, ma guarda come sono fatti, ma veramente con amore, con precisione, ma guarda, ma ti ringrazio veramente con tutto il mio cuore, ma veramente però, ma veramente però ti ringrazio. Guarda, ma è il pulcino pio pio, è il pulcino pio pio, ma io ti ringrazio veramente tanto, 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 sei veramente bravo, 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 brava, ma sarai una donna senz'altro. Ti mando un grosso bacione, ma forte, 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 ma forte però, ti arriverà senz'altro. Tutte cose da appendere, tutte cose belle, belle da appendere, belle da appendere. Veronica si chiama. Veronica, sei veramente brava, 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 Veronica. Hai fatto un capolavoro, un capolavoro, brava, 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 il pulcino e il coniglietto, ma che brava, ma che brava che sei, sei veramente brava, grazie, 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 grazie. Quante cose belle che dicevo, quante, quante cose belle che dicevo. Sono contenta, sono felice, felice e contenta, ma veramente però, veramente. E' che la nonna è golosa, qui ne ha già mangiato uno, ne manca uno, ma l'ha già mangiato la nonna, l'ha già mangiato. La nonna è così. Eh, cosa dobbiamo fare? Bisogna tenerla, sta nonna. Tenere sta nonna, tenere sta nonna. Ma che bello. Eccoci qui, sono veramente buoni, buonissimi sono. Sono buonissimi. Eccoci qui, sono buoni, 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 buoni. Eccoci qui, sono buoni, 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 buoni. Eccoci qui, sono buoni, 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 buoni